beh non mi è chiaro se un personaggio del gioco qualcuno devo care ora vediamo subito va bene era un personaggio del gioco perfetto cioè ero uno devo care su, di ogni poesia antico moderna ogni 500,000,700,500 versi tiene uno sempre un po' più cacoponico pronti? pericolosi quando a metti una musica epica prima di fare il dos un attimo sto pensando aspettiamo, non c'è problema intanto sentiamo la canzone del boss da 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 io le rifiuto sto bambando su e giugnano i conciano lì già per piacere poi mi incontinita la piaccia su conto e riscontro con lì già e con lì le voce sono ok a x 2 2 Solitario nella notte la fevo incontro in gran paura Battista e volto alla maschera Tiger Man Tiger Man Tiger Man Tiger Man Misteriosa argazza identità e segreto Che nessuno sa chi ne sconde Quella maschera Tiger Man Tiger Man Tiger Man Tiger Man Tiger Man Oltre a saltare e dare le manate a questo boss non fa nulla Quando è così non lo potete attaccare ancora sempre Grazie Allora prendi questa boss Questa non l'avevo prevista. Ma che fa la tua generazione? Anche Magia Nera è il boss, quindi attenzione. Ma che fa la tua generazione? Io ho studiato una vita sulla carta d'amnesco. Un cuore di riformatori ho fatto. Adesso vai a pulire i centri. Questa è la tua grande orchestra. Ma che cosa? 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 Oh, guarda che è che... l'uomo la parola l'alberto l'alberto scusa l'alberto l'alberto ma se mi chiesto è troppo! eh mentre io mi ammazzo a fare il boss la cosa va bene beh allora non te sono anche te concentrato uno col burro senza farmigero uno col farmigero senza burro uno col colore basilico senza burro senza farmigero uno senza sparare eh spavolo come cavolo che tassi? guarda lo so che stessi mi chiede qua dentro il mio vero lavoro non è questo lei lo ama questo lavoro io lo amo va bene così eh ma che si e chi è che grida? che ne vuoi che grida di nuovo? come vado tu? ma tu una canzone amica vai al volo pessimo direttore pessimo direttore delle musica tecnico odio proprio del dikea proprio tu le hai non ero pronto non eri pronto tu devi essere pronto tu devi essere pronto no non la trova fa niente comunque il boss è sconfitto eh è ggisi proprio cioè veramente ciò che riva allora cosa fa più bassi? che faccio? secondo me vabbò non è di giallo è giallo ma vabbè sono vabbè Grazie a tutti. 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 Buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono. Grazie a tutti.